Musica Lo vediamo su tutti i giornali regionali, è su Alta e su internet? Sono su internet Lei di dov'è? Dell'Alta? No, no Ah, del sito di Pesaro? Tutto sul sito? Sì Ciao 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 Scusate Ma c'è il supercato tipo Andrei? Si, era la che attaccava biglietti su biglietti Te saluta Noi siamo le Iene Piacere, Giacomo Zandri Com'è Giacomo? Giacomo Zandri Ehm... aspetta Ehm... 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 Un bel 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 belbelendo bel 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 La storia semua è che la vita capitano, non sede vado a cambiare Grazie a tutti!